immobile però finisce tozza poi comunque c'è gli occhi da gatto mi sembra che c'è proprio tondi genoa fessura come un gatto c'è una biscetta c'è una biscetta pensavo fosse morta quasi ci metti i piedi pensavo fosse morta quasi ci metti i piedi sopra invece no no una viscia guarda tieni il cane tieni il cane via Lola via Lola eccola guarda che quello a fare lì ha il muso triangolare non ha vipera? no non ha il muso triangolare? no no ce l'ho fuso là sta slinguando? si mi sta slinguando e io so che cosa vuole questa ma non è la mia tipa sei sicuro che non è un biscio quella a fare lì? si 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 ah perché si perché mi hanno detto che questa triangolare è proprio triangolare così quella della dipera no poi la dipera va tutta di lato questa no questa è lì questa è lì però sta puntando questo questo che c'ho al collo oh sta puntando la tua mano di latia come se questo si mettesse di costa così ora io l'antidota non ce l'ho e non ce l'ho neanch'io vieni via che sta slinguando ma ti piacciono i sapenti cioè lui deve guarda ti rampa le mani? no perché la distrago con questo avrebbe già attaccato sono velocissimi le vite le vanno di costa così io una volta ne ho visto no e allora scusa è piatta se si mettesse di costa com'è? hai capito? è rovesciata così è rovesciata così sul piatto invece che così così è andata via velocissima così 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 vabbè adesso adesso la mollo perché non capisca perché non scappi perché non è che le visce scappi eh ma poi è lentissima ah ma adesso la mollo e se sarà il caldo la lascio stare che ne sono altre più belle ciao Biscetta è è è è è è è è